buongiorno buongiorno del dottore claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo oggi rispondo ad un signore di san pietroburgo russia che mi fa questa domanda dottore mai sogni il sognare fanno parte del subcosciente o della coscienza e si possono pilotare guidare si possono avere sogni lucidi sì o no con l'ipnosi dcs si può fare qualcosa la risposta a questo signore a te che mi ascolti è mille su cento sì i sogni fanno parte del tuo subcosciente che rielabora e che tu che che ne dica qualche guru li puoi pilotare li puoi guidare con anche con un solo audio mp3 dcs o anche da solo senza neanche fare sessioni online di ipnosi dcs ma con l'ipnosi dcs vera e professionale la v maiuscola unica al mondo tu puoi veramente convincere il tuo subcosciente ad entrare a scegliere i sogni che possono rappresentare e rappresentano la tua soluzione la soluzione al tuo problema i sogni lucidi sono sogni che ti ricordi come se fosse un film io mi ricordo da ragazzino 13 14 anni avevo fatto un sogno avevo sognato una vecchia 500 lire sotto un mattone al mercato coperto del mio paesello e il giorno dopo mi ero dimenticato di questo sogno andando in giro con un mio amico di nome gianni si slaccia la scarpa mi metto su questo mattoncino e vedo luccicare sotto una moneta e trovo le 500 lire e lì mi ricordo che la notte prima avevo sognato di trovare 500 lire vecchie lire perché forse è successo all'epoca ciò perché avevo ascoltato qualcosa alla televisione che parlava di sogni lucidi e quindi il mio subconscio siccome attratto da novità da segreti da misteri l'aveva accattato l'aveva fatto suo e mi aveva dimostrato che è vero è vero il subconscio tramite i sogni e senza sogni significa un sogno lucido o meno lucido attira ciò che pensa attira ciò in cui crede per cui se tu vuoi ricordarti i sogni vuoi guidare i tuoi sogni vuoi pilotare i tuoi sogni vuoi plasmare i tuoi sogni convinci il tuo subcosciente e il gioco è fatto fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi o tipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cs del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sulle altre social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico amica mia e alla prossima dal dottor claudio saracino alla tua ciao